Questa nel Medioevo era l'arma più potente che esisteva, c'erano queste che venivano usate a braccio, cioè a mano, e poi c'era quella da banco. Qui vediamo la meccanica di questa balestra, è chiamata meccanica a piolo, praticamente vedete, tirando la leva sale il piolo, manda via la corda e parte la freccia. Questa invece è una balestra che ha lo sgancio a noce, che è più recente di quella che avete visto prima. L'utilizzo della balestra, così come lo vediamo oggi, ci riporta nel periodo tra il V e il XVI secolo, quando quest'arma era particolarmente utile sia in battaglia che per la caccia. In questi anni, fortunatamente, c'è stata una rivalorizzazione di questo antico strumento, che vede nuovi balestrieri partecipare ad iniziative, rievocazioni storiche, ma anche vere e proprie gare sportive patrocinate dal CONI. Domenica scorsa, presso il centro turistico di Val di Fiume, nei pressi di Bagni di Lucca, sulla Val di Lima, si sono tenute una serie di gare con la balestra, ospiti del titolare della struttura Massimo Betti. Io credo che la cosa importante sia cercare di favorire l'associazionismo, questo è importante, per cui certe manifestazioni che ci vuole del tempo per farle venire sul territorio, se per un anno le perdiamo, poi è difficile recuperare. Quindi noi siamo sempre a disposizione delle associazioni per vedere di mantenere sul territorio una manifestazione che poi si può spostare tranquillamente. L'importante rimanga nel nostro comune. Nel corso della giornata si sono disputate tre competizioni. Il tiro di caccia, cioè al bersaglio con un'immagine faunistica, che ha visto la vittoria di Andrea Cavastracci, del gruppo degli arcieri di Orvieto. Il tiro al bersaglio, col successo di Roberto Bianchi, della vicaria della Val di Lima. E poi il tiro al corniolo, a 25 metri, con la vittoria di Augusto Padoin. Grazie alla FIGES, al CONI e a tutti i gruppi che partecipano, si cerca sempre più numerosi, anche con tante difficoltà. Comunque riusciamo a fare delle belle gare e delle location altrettanto belle.